Voglia di fare musica Ciao amici, come state? Eh lo so, abbiamo fatto un salto temporale e in un attimo abbiamo oltrepassato l'estate e siamo arrivati in autunno tempo di castagne e di funghi no scherzo, a parte gli scherzi non per la pioggia perché continua a diluviare anche in questo weekend ma non siamo in autunno rimaniamo in estate vi dico la verità oggi sarei voluta andare a prendere un po' di sole visto che sono in montagna visto che di posti per prendere il sole ce ne sono tanti ci sono tanti dei fiumi ma in realtà insomma questa pioggia non mi permette ecco di vedere un po' qualche fiume quindi invece che armarmi di costume mi sono armata di scarponcini gli scarponcini no vabbè devo ancora metterli al piedi ho ancora il scarto della ginnastica e vi porto in una vallata che io vedo sempre da casa quindi esco sul balcone guardo davanti a me e vedo sempre la vallata opposta e vedo questa struttura che è un albergo il posto si chiama l'Aquila ma è stata negli anni anche una importante stazione scistica tra poco insomma mentre il viaggio devo fare attenzione anche la pioggia vi racconto il luogo dove mi porto oggi e anche perché per me è stato importante vi dico solo che questo è anche l'inizio diciamo così della nostra challenge estiva perché molti di voi insomma mi hanno chiesto ma dai non fai più le challenge erano carine abbiamo modo di parlare cagnolino sei lì? abbiamo modo di parlare di raccontare insomma di tanti argomenti e loro ho detto bom oggi ci siamo partiamo con la pioggia partiamo con la challenge estiva e vi spiegherò anche quale sarà il tema o meglio il tema oggi sarà quello del viaggio ma sotto tanti punti di vista intanto viaggiando I'm just a poor boy With my story's seldom told I have squandered my resistance For a pocket full of mumbo Such a promises All lies and jest Still the man hears what he wants to hear And disregard to the rest Adoro la montagna perché mi piacciono molto le borgate di montagna, le case, ci sono alcune borgate che rispecchiano anche un po' quello che è il libero e la natura, quindi se ne vedono in muratura, cioè in pietra oppure in legno, poi veramente con la pioggia in inverno, tutto ha un sapore ancora più bello ma anche più mistico, tra l'altro io ve lo dico, io odio guidare montagna, non mi piace, però vabbè lo faccio per voi, oggi lo faccio. Dovremmo quasi essere arrivati, mi sembra, c'è praticamente tempo in macchina, c'è circa un quarto d'ora, tra l'altro a chi è amante dei film ricordo la Coppa Colta con il mitico fantozzi. Nell'epicentro 50 gradi sotto zero. Il geometra Belli che assomigliava stranamente ad un'orata si perse nella nebbia, fu venduto a trance in un supermarket rionale. Ah ok sono arrivate nel terzo, ok perfetto, è bello farvi vedere questo posto che io me lo ricordavo diverso col sole, però va bene dai ci sta, dove ci mettiamo non lo so, 80 scelte di posti, quindi comunque dicevo questo è uno dei posti dove quando ero più giovane, ecco mettiamola così, quando ero più giovane venivo qui per prendere il sole, strano ma vero, ma venivo a prendere il sole insieme agli amici. Questo piazzale ci porta appunto ad essere arrivati a questo albergo dove negli anni 70 era veramente luogo di ritrovo per gli amanti dello sci, tra l'altro qui c'è anche la casetta davanti con Sciclub Valsangone perché siamo nella Valsangone, dicevo anni 70, luogo rinomato per gli amanti dello sci, in questa zona uno dei due impianti sciistici importanti, in realtà dismesso da tanti anni, quindi anche quello che vedete le mie spalle, era un albergo insomma sempre molto pieno, adesso è diventato un ristorante che va per la maggiore insomma d'estate, chi viene qui a cercare un po' di sole, un po' di riposo, per fare anche delle camminate, poi si può fermare in questo ristorante e mangiare cose tipiche proprio di questi luoghi, ad esempio in questo periodo ci starebbe bene polente cinghiale, detto questo mi metto gli scarponcini, scendiamo prendendoci la pioggia e vi faccio vedere qualcosa in mezzo alla nebbia, va bene? Ok. Mi siedo qua, mi cambio le scarpe e poi devo prendere dietro, aiuto, solo perché oggi non è che vado a funghi ma con la pioggia che è venuta forse è meglio non uscire con le scarpette bianche, nascondo lo zainetto sotto alla felpa così nessuno lo vede e nessuno me lo vede, non si vede vero? Non si vede? No. Ok. Andiamo qui. Blu Sbaldo, eh, che c'è sotto la pioggia, lo so che sei titubante, aspetta, mi metti il giubbotto? Sì. Come no? Ascolti sempre tanto tu, aspetta che ma... Allora, in realtà c'era qualcuno dietro alla finestra che guardava, credo al ristorante e avrebbe detto ma chi è questa massa che viene con il suo tempo? Tempo da lupi, ma non vogliamo, insomma, noi ai lupi siamo amici, noi coi lupi. La giù segna 17 gradi il 7 luglio, 7.27 mi sembra un orario un po' sbagliatino, però insomma va bene, premiamo quello che c'è. Ciclap Val Sant'Ono e siamo arrivati in questo bel piazzale dove vi assicuro che quando non c'è la nebbia la vallata è stupenda. Allora, intanto come vi dicevo, di qua partono i sentieri segnalati, quelli del cai, con il tempo di percorrenza. Qui in questa zona qui partiva il baby e lo sapete che chi ama andare a sciare inizia proprio dal baby perché ci sono, vero Blues, tu inizi dal baby perché ci sono delle piste più facili, quelli che se la fanno cavare meglio sui sci arrivano anche a fare la famosa fista nera o addirittura sui sci. io sono contenta perché ho inventato il naturismo tessile. e potrei chiamare la mia associazione Simonita. Carina, ci può stare. Tra l'altro cerco sempre di scoprire anche i fiori, insomma le piante che ci sono, ma io non ne conosco una, se non le felci e forse quelli sono i rododendri. Non lo so, chi ne sa qualcosa, tipo il mio amico Stefano potrebbe anche indicarmi se è vero che sono i rododendri perché sono belli, mi piacciono. Detto questo, nella nostra camminata, beh intanto abbiamo parlato di stazione scistica, in questa zona ne è rimasta solo più una, molto più piccola e anche più facile da gestire anche economicamente. Infatti questa stazione dove siamo adesso, l'Aquila, negli anni è andata sempre meno essere frequentata. Un po' perché la vallata è esposta molto al vento e quindi negli ultimi anni il cambiamento climatico ha fatto sì che non ci fossero più le nevicate importanti e copiose e quindi la poca neve che arrivava in questa vallata ventosa praticamente andava subito via o si scioglieva. I costi di gestione erano troppo alti ed ecco che hanno deciso di chiuderla. Però non c'è più la stazione scistica ma in inverno quando c'è un po' di neve, in estate lo si fa, ma in inverno quando c'è un po' di neve si viene comunque a ciascolare e non so se vi ricordate, proprio in questo posto ero venuta a ciascolare. Ve l'avevo anche raccontato, Lusbaldo non era tanto contento perché aveva molto freddo alle zampine, però era stata una bella camminata. Chissà se trovo anche qualche funghetto, qualche colcino sotto i castagni, perché questi non sono i castagni, sono betulle che potrebbero tornarmi utile per la sauna, potrei prendere qualche rametto per la bagnarusta. Comunque vi dicevo che sono come bambini, mi lascio trasportare da tutto quello che vedo intorno, quindi vi sto dicendo una cosa, poi mi giro, vedo dei funghi enormi, dico wow, mi sento un po' anche come Alice nel Paese delle Meraviglie quando mangia il fungo magico e si rimpicciolisce, no vabbè questa è un'altra storia. Comunque torno a destra, lo so, sono una pasticciona, lo so, e qui era la partenza appunto della peggiovia, quella che portava su praticamente fino a Quinta Aquila, praticamente tutta in disuso, però possiamo vedere che siamo a 1300 metri di altitudine, perché c'è scritto là, si legge solo più dell'Aquila partenza a metri 1300, si arriva a, non lo so, devo guardare quanti metri è, 2000, 2000, non lo so, devo guardare, bello e interessante, qui c'era credo, ci fosse il signor, non posso entrare perché tutto, qui siamo, bene, lo sbaglio stai lì, buongiorno, sì, salve, sì, oggi fa freddo, mamma mia, però sono contenta, insomma, io vi auguro una buona salita e una buona sciata, sì, il biglietto, eccovi il biglietto, costa 6000 lire, solo una corsa, comunque potete scendere e aspettare che arrivi la seggiovia, a presto, spero di rivedervi per i prossimi giri e, niente, insomma, buona sciata, salve, salve, avanti il prossimo, perfetto, la mia agilità della palestra, è interessante, non è proprio una casa disabitata, però è carino anche scoprire la parte di seggiovia, spero non mi fassi nessun testa, e penso che laggiù ci fosse la carrucola che arriva per far arrivare le seggiovia, però mi chiedo, come arrivavano per poi tornare su? non lo so, questo lo ignoro effettivamente, però ha qualcosa di interessante, questi sono tutti pezzi di gomma, questi pezzi di gomma, chissà che cos'erano, penso, parte comunque della, della funiglia, vabbè, è una funiglia, 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 però che non fa niente, se non sono tutti pezzi di gomma, ah, ok, ecco, qui c'erano le carrucole, mamma mia, poi secondo me i signori per andare a fare la manutenzione scendevano da queste scale, sicuro, e poi, ah, ma era proprio sotto, quindi passava da sotto e saliva su, quindi, anzi, in realtà, credo, è sicuro così, che queste carrucole erano quelle che tenevano, tendevano praticamente, ci sono un po' di cani, non vorrei che venissero a mangiarmi, che tendevano praticamente la fune, perché da seggiovia praticamente faceva il giro in questo senso, vado a vedere perché a me, mette l'anze anche questi cani, che poi sanno che io sono entrata qui, e li fanno la guardia, quindi, in periodo, non si può entrare, si dice, avviso i turisti, qui lavora un pastore con cani da protezione, il cane difende i suoi animali da predatori intrusi, fai attenzione, non muovere le pecore, eviterai che intervenga in loro difesa, ecco, fermati, non correre, mantieni un comportamento calmo e passivo, non gridare, non tirare al salto, né minacciare col bastone, distogli lo sguardo e cammina lentamente, non accarezzare i cani e non dar loro da mangiare, ecco, perché abbaiavano, perché ci sentivano sul loro cammino e quindi volevano difendere i loro animali. Arriva, amore! Eccoci, patato! Qua cattagni! Non mi vedo! Potrei trovare delle cravette sotto le betulle, questa blu, no, no, quella è, no, no, non è una cravettia. Adesso cerco, eh! Ma quante, quindi? Blu, secondo me li abbiamo fatti arrabbiare noi, non c'era nessuno, e senti che casino, perché secondo me ti sentono, sentono il tuo profumo di cane. Qui c'è un osso? Un osso sarà? Sarà un osso di qualche animale? non c'era nessuno. Non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era nessuno, no, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. E io l'occurso di qualche animale, solo c'era il tuo titolo. Non so quando c'è sempre un orizzatore. Non c'era nessuno. Maاب. avrei voluto farvi vedere la vista di quello che è la parte opposta di casa mia ma niente è qui continua a scendere la nebbia e mi sa che è meglio che si rientri vi pongo la domanda della challenge che quindi è visto che per me è stato importante venire in questi posti anche per un po' sfidare me stessa come vi dicevo prima con la ciascolata in mezzo alla neve aveva un po' superato anche i miei limiti avevo fatto tanta fatica ci avevo messo molte ore rispetto a quelle che ci avevano messo diciamo così i miei compagni di viaggio ma la soddisfazione nonostante la fatica e la paura di non farci e di arrivare in cima in quel luogo dove non ci avrei scommesso la partenza per me è stato qualcosa di incredibile e il piacere è stato sicuramente esponenziale alla fatica che avevo fatto e quindi vi chiedo come prima celle gestiva si dice sempre che il bello di raggiungere una meta non è arrivare in fretta alla meta ma godersi il percorso che si fa no e quindi essere ancora più soddisfatti in questo senso quindi vi chiedo nelle vostre sfide nei vostri viaggi qual è la una meta che siete riusciti a raggiungere sicuramente non con poca fatica ma che come è successo a me insomma è stata veramente gratificante se non c'è ancora stata e vi auguro in qualche modo di riuscire step by step a trovare quella che può essere una delle tante mete perché poi non ci fermiamo una meta dobbiamo sempre cercare di evolverci e di trovare altri cammini che sono consoni alla nostra persona con questo in questa estate sotto questo sole a no sotto questa nebbia e questa pioggia e con un po di funghi vi saluto anzi io a blusbaldo vi salutiamo tutti i marci però mi sembra una crava non rossa ma una crava normale no da sopra pensavo fosse una crava non è stato un lieto fine va bene alla prossima ciao non abbiamo trovato niente neanche una crava niente zero continuiamo a cercare ancora un po tanto ormai siamo bagnati bagnati per bagnati cerchiamo grazie a tutti